buonasera cari amiche e cari amici vi invito a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare scaricare il link in descrizione allora cominciamo con una bella notizia o perlomeno una bella indiscrezione che collega daniele longo calciomercato.com ha una volta si diceva twittato comunque su x che ormai sembra non è ancora accordo totale ma stiamo andando verso la migliore soluzione per tutti cioè che camarda rimarrà al milan è una questione di giorni l'annuncio è una questione di giorni il comunicato quindi proprio postato qualche minuto fa il collega daniele longo lo citiamo volentieri perché è una bella notizia sapevamo vi abbiamo detto che si stava andando verso la verso un esito positivo milan non può permettersi di perdere un giocatore di così valenza ha segnato un gol proprio visto ieri la registrazione d'italia slovacchia un bellissimo gol è un ragazzo molto perbene di una famiglia molto perbene molto appassionato molto serio molto professionale molto milanista e quindi è un bella una bella partenza di questa di questa campagna rafforzamento ma anche di questa campagna rinnovi quindi buona la notizia per quello che riguarda camarda che dovrebbe dunque diciamo entro i primi 15 giorni di giugno ufficializzare il suo contratto fino al 2027 quindi è ancora fra tre anni quando lui avrà 19 20 anni e sarà certamente già speriamo in nell'ambito della prima squadra dove potrebbe incominciare a effettuare qualche allenamento ma sembra che il prossimo anno gli vogliono affidare e c'è una grande responsabilità non dico non dico totalmente il l'attacco del milan se dovessimo andare nella nel under 23 milan under 23 però indubbiamente sembrerebbe sembrerebbe questo e sarebbe la soluzione ideale perché se si fa un anno da giocatore di 17 anni in serie c la crescita poi se riesce a diciamo a essere protagonista diventare protagonista essere decisivo anche in serie in serie c beh allora lo ritroveremo in lo ritroveremo un trovere ritroveremo camarda anche con più qualità con più con più conoscenze con più esperienza rispetto al giovanissimo camarda che continua a segnare gol quindi questo è e mancherà molto perché il milan deve affrontare la lazio in un dentro e fuori per riuscire arrivare nelle final four di del torneo del campionato primavera con la lazio domani e quindi mancherà molto camarda impegnato con le europeo under 17 fra fra qualche ora finirà l'avventura di girù di chier e di pioli e riguardo pioli c'è una curiosità mi è stato detto di tutto perché perché non ero fra quelli che dicevano pioli out l'ho detto anche il perché perché io all'allenatore del milan out per principio non da aziendalista da milanista ma tanto lo dico non interessa nessuno non lo non lo metto e allora ecco e sono stati dei mesi massacranti non solo per pioli ma per tutti quelli che speravano che il milan vincesse e che andasse avanti e poi ci sono quelli che pur che andasse via pioli speravano che il milan perdesse ce ne sono anche tanti e hai visto che noi abbiamo capito che era lui il problema adesso solo pianti dispiacere a perché brava persona non lo so adesso improvvisamente tutti riscoprono pioli nel momento in cui sta per lasciare il milan è una cosa veramente curiosa avessi un commento negativo oggi su pioli sì ce n'è qualcuno ma mentre prima c'era un commento su 100 positivo adesso c'è un commento su 100 negativo è una strana atmosfera una strana uno strano movimento in fluttuante che va su up and down adesso stasera ci saranno grandi tributi bisogna essere un po' equilibrati quando dico che sono rimasto delusissimo proprio mortificato dalle due partite contro il la roma il sesto derby la vittoria proprio nel giorno del derby del campionato dell'inter e quindi gli infortuni sono sulla sulla bilancia dell'esperienza pioli sono certamente fardelli pesanti lo può negare qualcuno non lo può negare nessuno detto questa tutto questa acrimonia cattiveria come se fosse un allenatore mediocre dimenticando i due secondi posti eccetera c'è modo in modo si critica perché c'era da criticare dopo queste queste questi elementi che vi questi ha sotto questi aspetti però c'è da ricordare tutti gli altri aspetti quindi se c'è da fare poi si fa il giudizio si dà una critica si promuove si boccia e fa parte della normale educazione sportiva ci si ma purtroppo ed la parola educazione ormai è una parola così che molti non conoscono per l'equilibrio educazione chiaro che aver visto il primo tempo col torino ripeto avrei preso un ascia e abbattuto una baobab non è che io vado non è che mi diverta a vedere il milan perdere in quella maniera però adesso sono tutti sono tutti i propri oli è veramente una cosa molto molto curiosa molto curiosa oggi sono stato al milan store per una per una una cosa particolare un giorno ve lo dirò e ho visto la maglia nuova veramente bella non qualcuno pensa che dica questa perché così me le hanno regalata una qua non ho qualche maglia di giocatori del passato ma non sono un fanatico delle maglie io ne ho cinque o sei una volta me ne ha data una pippo dopo i gol i tre gol a a livorno o una di se una di girucola lì sì ci tengo me l'ha andata e però non ho una collezione non sono ci sono quelli che proprio fanno la collezione delle maglie però l'ho vista un bel rosso nero bello chiaro con le strisce e poi c'è dietro questo logo 125 il logo della della perché milan festeggia a dicembre 125 anni veramente una bella maglia lo dico e ho trovato una l'ho scritto nel mio post non vi dico i commenti ma pazienza io continuo a postare i commenti li lasciamo poi all'educazione delle persone ovviamente e ci c'era proprio per rivedere le famiglie la gente che andava a san siro vanno a comprare le maglie insomma questa atmosfera un'atmosfera bella di tifosi di sport di affetto per il milan che mi è molto piaciuto mi è piaciuta mi è molto rincuorato e quindi perché questa è l'atmosfera che conosco quella che io riconosco questa sera si gioca contro la salernitana ci sarà un addio e c'è da capire mi hanno detto di no qualcuno oggi stamattina nella rassegna stampa ve l'ho detto potrebbe esserci qualche messaggio della curva mi dicono ma non lo c'è l'ho letto non lo so magari con delle con dei chiari riferimenti sul possibile o addirittura probabile futuro allenatore Fonseca non so se la curva si limiterà a non cantare non incitare nel primo tempo e poi far partire il solito affetto i soliti cori la solita solito calore nei confronti della squadra solo nel secondo questo sinceramente vediamo se c'è ecco e vedremo un po capiremo capiremo domani stasera scusate come 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 verrà affrontato questo problema anche diciamo dalla dal dal tifo organizzato riguardante Fonseca non dobbiamo negare che basta vedere i commenti dell'atmosfera ma anche le persone mi guardano ma non verrà e non lì veramente non ho trovato proprio uno che dicesse ma vediamo quindi questo è un punto da che la società deve non dico affrontare deve tenerne conto poi la società deve decidere in base ai suoi i suoi intendimenti ha conosciuto l'allenatore ha conosciuto ha parlato ha sondato altri allenatori e dopo questo dopo hanno deciso di prendere probabilmente salvo cataclismi in questo momento che sinceramente non riesco a immaginare Fonseca chiaro che Fonseca parte molto molto indietro ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto indietro nella nel giudizio dei tifosi del Milan non è una bella partenza quando si parte così indietro c'è un modo magari per far guadagnare qualche punto che poi prima o poi qualcuno della società magari nel giorno della presentazione o nel giorno della comunicazione nel giorno dell'annuncio magari spieghi quali siano state le motivazioni certamente motivazioni studiate perché si essi sia scelto questo allenatore portoghese chiaramente quelli che non lo vogliono neanche vedere magari non interessa però magari sentendo cosa dice la società si può avere almeno un'idea quali siano state le motivazioni quali siano state le diciamo dopo aver studiato a fondo schemi moduli personalità quali siano state poi i motivi di questa decisione vedremo 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 intanto stasera ci andiamo a gustare questa palla che rotola con la maglia nuova dei giocatori del milan un grande abbraccio a pioli un grande abbraccio a girù e un grande abbraccio a chi è chi giocherà mirante probabilmente anche la sua ultima parita forse della carriera non lo so con calabria il capitano e teo ornandez i centrali saranno gabbia e tomori florenzi pioli vuole un suo vecchio ma vecchio in vecchio a livello di esperienza florenzi con reinders e con probabilmente benasser o agli la davanti pulisi ci girò alla caccia del suo cinquantesimo quarantanovesimo e cinquantesimo gol e leao questi sono i il tridente contro la salernitana che con dispiacere vediamo ritornare in serie b dopo un campionato totalmente negativo ci dispiace veramente perché senza piageria eccoli la gente pensa sempre dopo non non ho amici salernitani lo dico perché vedendo la passione del tifoso salernitano come fai a non volere bene una squadra come la salernitana se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegati attivate la campanella e scaricate il link in descrizione iscrivetevi al canale